ma noi dobbiamo parlare di quello che è successo ovviamente due infortuni in dieci minuti grave infortunio bremer ovviamente certificato poi dalle risultanze strumentali e dal comunicato della juventus ieri piuttosto scarno ma proprio perché scarno fa ancora più male c'è proprio dan non c'è come dire non abbiamo altro di interessante da dirvi nel senso che purtroppo le cose stanno così crociato anteriore interessamento del menisco ovviamente si tratta di un intervento chirurgico che è in programma nelle prossime ore da quello che risulta a me tra domani e dopo domani e poi inizierà quella che per i calciatori è sempre una seconda vita e è sempre un filo diversa per un calciatore per per l'uomo e il professionista bremer sarà così poi noi tutti immaginiamo che bremer tornerà tornerà a bremer tornerà forte come prima convinto come prima e ovviamente o più di prima però intanto abbiamo in mezzo una stagione sportiva praticamente intera da frontale tra l'altro a me sapete tutte le volte che io rivedo il fermo immagine quello con lui steso a terra qual è la cosa che mi colpisce di più la fascia da capitano c'è penso anche guarda che beffa era anche c'è ti succede capita è successo a bremer è successo al capitano della juve cioè c'è un simbolismo in quella foto di un dramma nella notte più bella di quest'anno incredibile che ti ha guastato in qualche modo alberto ha guastato io mi ricordo il post partita si parlava quasi quanto dell'impresa delle ansie per bremer in più la beffa un mesetto fuori anche nico gonzalesi due assenze di cui ci accorgeremo nelle prossime partite cioè non è che saremo lì e ce li dimentichiamo per il tempo necessario lo sappiamo che sarà così panos sì ma io ho dentro un super ottimismo a me dispiace tantissimo no 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 anch'io ma sapremo che torneremo su questi nomi perché verrà da farlo a meno che non le vinciamo tutte se vinciamo tutti no ma no ma no io io mi sono io sposato questa cultura del dire ok è così certo bremer è il capitano in questa occasione giocatore simbolo della nostra difesa forse il giocatore che più ci vorrebbero acquistare le altre squadre tutto quello che volete dopodiché noi siamo la juve e questo è un mantra che è tornato e siamo la juve indipendentemente dagli uomini siamo la juve perché siamo la juve quindi tiago non ha fatto niente ha buttato dentro il giocatore ai gatti certo siamo un po corti secondo me siamo proprio a livello numerico siamo corti perché calulu gatti come coppia a me soddisfa come mi soddisfava calulu bremer o gatti guarda che ti stai ti stai stai per dire il contrario di quello che occhio che ti smentisci da solo perché tu dici io lo so tu dici a livello numerico siamo corti quindi se a livello numerico tu mi stai per dire che di danilo e cabal ti fidi perché se no non è a livello numerico è a livello tecnico che sei preoccupato no no me all'aspetta numerico nel senso che gli altri gli altri mi devono coprire anche gli altri ruoli cioè cabal adesso l'abbiamo un po perso cabal secondo me può fare comunque un centrale di impostazione l'ha fatto all'inizio lo può fare certo magari in partite dove serve più quello che marca cabal non è non è il meglio di danilo mi fido fino a un certo punto ma se rientra in campo le sue partite le ha fatte io non ho nulla contro di lui dico che però la coperta è corta perché poi i giocatori già erano un po corti così io personalmente di lui non mi fido tantissimo ecco io sono contento che l'abbia fatto giocare però per me oggi lui è un giocatore a serie b a dire tanto poi gioca bene che giochi si fa esperienza magari lo cedia un prezzo buono e ci facciamo però a oggi lui non è un giocatore super affidabile secondo me andare all'ipsia con lui mi sarei un po spaventato però come diceva come diceva magari gioca l'hotcatelli centrale questa è la mia è la mia è la mia crash non mi sorprenderebbe io sponsorizzo questa questa teoria nell'emergenza cioè cioè soprattutto se fagioli e fagioli di se tiago e qui ragazzi poi non si fida di danilo al cento per cento e non si fida contestualmente neanche di cabal da centrale ci sta lavorando e dice lui è un centrale ma non se non si fida al cento per cento di nessuno di due ci saranno delle riflessioni ulteriori se dovesse accadere una riflessione ulteriore io mi aspetto possa possa lo catelli fare nel gioco di tiago questo ruolo grazie al lavoro fatto negli ultimi due tre anni ma grazie al fatto che l'interpretazione del ruolo sarebbe ovviamente quella di un giocatore proattivo a cui passano tanti palloni tra i piedi che deve assolutamente contribuire in maniera importante alla costruzione vecchio libero vecchio libero no non sto dicendo che lo vedo lì però se penso a un'emergenza io penso a Locatelli devo dire anche che mi è stato fatto notare da da un amico e collega metto però tu conosci bene Locatelli e dici così perché hai visto qualcosa ma non hai mai visto Turam dice per forse per rapidità e perché per il fatto che che va ancora lavorato potrebbe essere Turam invece un difensore centrale ho detto non lo conosco abbastanza in tutte le sue sfaccettature Turam per dire Turam Locatelli non mi sembra una roba impossibile da pensare da pensare poi dal dire al fare c'è un allenatore di mezzo Giacomo no no sono d'accordo con te local l'opzione Locatelli secondo me potrebbe anche chiaramente con gradualità essere essere preso in considerazione in questo momento da un punto di vista dei titolari lo schema c'è cioè i giocatori ci sono il problema è che abbiamo un'intera stagione anche lunga davanti il problema non è la singola partita siamo riusciti a vincere a Lips in condizioni clamorose ma non a caso senza Bremer sarà un caso secondo me no è la prima gara in cui la Juve prende due gol dall'inizio dell'anno quindi sicuramente si sentirà l'assenza di un giocatore della sua totalità come come ruolo però una soluzione interna si potrebbe trovare anche se di primo acchito Calulo Gatti la soluzione già la data quella partita chiaro non c'è Bremer e questo un pochino un pochino però seguendo la logica tua nostra di tutti che abbiamo avuto pura logica che ovviamente non è non è per forza la realtà qui che 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 vedremo la pura logica è che la prima conseguenza del grammi fortuna di Bremer è che Calulo del mezzo non lo sposti più quindi perdi la prima opzione sulla destra poi ripeto ci va la controprova perché poi magari invece gioca Gatti Cabal perché Tiago vuole Calulo vuole poterlo usare anche a destra però però questo come prima riflessione quella mia è stata adesso Calulo del mezzo chi lo toglie più e quindi perdi un'opzione sulla destra dato che Cambiaso non può giocare nella stessa partita sia terzino destro che sinistro fino a prova contraria perché magari lo farà ecco questo è un po' che viene siamo quando dici siamo corti prima Alberto tu intendevi forse che dove tiri la coperta ti sembra che ci sia un ti sembra che ci possa essere un buco però insomma Bremer non è solo un giocatore che ti fa stare corto è il miglior giocatore che aveva a quelle parte c'è anche un discorso di qualità è chiaro e tu che riflessi Stefano che riflessione hai avuto come conseguenza sulle scelte di Tiago no come diceva Pano io quando sono entrati mi aggancio anche quello che dicevi tu fascia da capitano io chiaramente faccio tutti una sorta di scongiuri all'inizio di ogni partita e l'altra sera avevo proprio l'occhio su su Gleison ho detto Dio proteggicelo quindi magari l'ho gufata io non lo so e non ho dormito la notte però probabilmente quest'anno forse dopo tanti altri anni è vero è una perdita terrificante però forse per le idee di Tiago per i ruoli dei giocatori un po mischiati forse è una cosa a cui si riesce a sopperire quantomeno fino a gennaio poi non so lì magari Luca sarai tu a dirci qualche qualche novità ho pensato anch'io Calulu lo tieni lì adesso però anche Calulu comunque arriva da una stagione comunque di in forza ma è anche un altro che va un attimo preservato non possiamo pensare di averlo sempre in campo quindi qualche riflessione va fatta però c'è Tiago ci pensa lui cioè la risolve ormai 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 non solo ci fidiamo ci affidiamo ed è giusto che sia così Tiago ragazzi Tiago ci ha conquistati ma cosa c'è c'è un atteggiamento che abbiamo visto in maniera netta l'ipsa e che abbiamo solo intravisto secondo me qua e là in campionato che la squadra è preparata a partite dove deve far fruttare il pallone il pallone no a me è sembrato molto sul pallone la partita cioè quando fagioli fa quella roba lì quella roba lì intendo dire i cento minuti di lipsi non una gioca quando fa quella roba lì è perché non è solo fagioli che si inventa una notte alla modric e fagioli che è uno che ha grande fiducia nei propri mezzi sempre avuta ma ha molta fiducia di quello che succede intorno e allora certe cose le fai e quando le fai poi ti vengono alberto si vede hai detto tuo atteggiamento per me la cosa più bella che vedo perché poi con l'atteggiamento siccome la qualità c'è e o viene insegnata i giocatori migliorano e si vedono già tanti che sono migliorati con l'atteggiamento si può arrivare a fare tanto come soluzione io butto lì visto che a me sono piaciuti tantissimi 30 minuti meccenni su fascia destra meccenni a destra secondo me ha qualcosa in più di di savona specie nelle partite dove bisogna spingere perché l'abbiamo già visto l'anno scorso che sa fare quel ruolo anche se lo faceva da esterno da quinto però secondo me meccenni lo può fare anche perché poi alla fine giochi quasi da quinto con come l'atteggiamento più offensivo di di tiago e secondo me a savona che sta giocando benissimo fa fa il compitino da sei tutto gli manca quella cosa quella cosa diversa no e due volte andato su ha messo dei cross un po così io non è che gli faccio la colpa a savona ci mancherebbe però meccenni secondo me potrebbe essere quella la sua chiave sì sì ragazzi ormai ha più di un'ora di vita questa notizia è dujan vlavic non convocato per la nazionale serba neanche per questo round di match internazionale e quindi se ne lavora che è toccato tranquillo tranquillo focus bene a borino anche a questo giro e sono stra felice anche per quello che è stato capace di fare in quattro giorni dujan vlavic quattro gol due doppiette il contesto internazionale eh la fattura eh un vlavic che tiago ci ha sempre descritto come leader positivo lui ha usato sempre questa definizione qua a prescindere se stesse segnando non segnando giocando male sostituito doppietta lui dice l'inizia sempre le risposte su vlavic la stessa maniera è un nostro leader positivo e questo lato positivo adesso potrebbe avere un effetto domino a questo punto luca oggi tante prime pagine per vlavic anche se la partita non è stata ieri ma ieri l'altro giacomo no dicevo a questo punto col senno del poi potremmo anche dire addirittura che quella sostituzione che aveva destato molte perplessità il quarantacinquesimo abbia sortito tu eh hai detto tu a me io mi fido beh nei centottanta minuti anzi cento e novantasei minuti successivi fatto quattro gol che vuoi dire bastone carota ma che poi comunque luca eh leggevo da qualche parte non mi ricordo più dove che sul sul rigore segnato dall'ipsia c'era qualcuno in campo che urlava dai andiamo avanti questa la vinciamo ed era vlavic non so se sia una una butada o una cosa vera quindi questo mi fa proprio pensare viene raccontato questa istanza che tu dici viene raccontata come testimonianza diretta da un un inviato prime che collabora con cronache di spogliatoio e ieri a cronache di spogliatoio dice io ero lì a bordo campo e faccio parte della truppa di lavoro di prime e vi racconto questo aneddoto quando succede l'episodio di di gregorio e c'è la doppia sostituzione c'è vlavic che urla ai compagni qualunque cosa succeda noi questa partita andremo a vincere e e questo lo dicevo perché comunque a questo punto rientra sempre questo aspetto psicologico che sia in negativo o sia in positivo quindi evidentemente è una componente importante nella sua personalità e poi lo dice lui nell'intervista dice sempre che questa cosa incide in lui lo si è visto anche nel primo gol quando è andato a esultare ha portato di nuovo tutti in mezzo cioè ovviamente io ero gasato come una bestia vedere queste scene quindi speriamo che prenda questo abbrivio e poi comunque in due partite ci ha fatto ci ha fatto vedere che cosa può essere finalmente cosa dovrebbe essere quello allora io sprutto questa cosa che c'è scritto max power non solo per ringraziare ale macente salnat anna bianconera massi uve vedo andrefas mariuste dani alex cicci fifi miau miau siamo oltre duemila vediamo se c'è qualche nuovo abbonato qua su twitch dovete abbonarvi ragazzi karma leon due anni 32 mesi mas andrea ginella diciannove mesi 42 9 per roy venese l'ex cassa tequila boom boom due anni boom boom siamo a boom boom tequila boom boom quindi la tua festa due anni con noi ciao vi seguo da tantissimo amici miei e salissa 40 mesi no niente siete sempre i soliti i soliti i soliti due tre mila forza ragazzi abbonatevi oppure perché perché se vi abbonate potete anche scrivere qua nella chat come ha fatto max io non sposo la linea paris sul terzino destro lo dico chiaramente io no per io mckennie terzino nei quattro sinceramente è un chiamiamolo esperimento comunque è un è un'idea di cui non sento il bisogno lo dico verità anche l'altra sera mckennie c'è davvero doveva solo andare in giro con la bandiera degli stati uniti su a cavallo come nelle nelle guerre tra nordisti e sudisti però sinceramente nel finale xavi simos li va dietro dietro quattro volte su quattro su cinque poi nel senso lui non è un giocatore che ha un'interpretazione sicuramente più creativa del ruolo quindi capisco quello che intende ma non tutti hanno xavi simos e quando c'è xavi simos faccio giocare magari è una questione di meccaniche io sinceramente mi fido più di savona da quarto mckennie sta facendo bene quasi tutto il resto l'altra sera serviva giocasse lì c'è una necessità dell'allenatore c'è una vision lo fa tra l'altro la cosa che fa non la fa da terzino la fa come se stesse giocando ancora dove stava giocando prima quella del recupero palla e io questa roba di me che trovo che ci complica siamo in emergenza gioca mckennie terzino ci sta ma l'urgenza di spostare mckennie in quel ruolo sinceramente non la sento poi anche sbaglierò io l'indizio ulteriore il fatto che lo abbia fatto giocare in quattro giorni due volte titolare quindi il mckennie di adesso viene da quattro a fila da titolare vabbè ma potevamo immaginare che dopo aver visto a genova mckennie fagioli cambiasse qualcosa centrocampo dopo quattro giorni una sorta di turno invece ha riproposto loro due si vede che in questo momento da lì non gli sposti tiago c'è fatto quattro di fila da titolare volevo fare c'era quella domanda e un mese e mezzo fa ancora erano esubero ragazzi se neanche se io dico savona sono conservatore anzi dovrei essere dovrei essere più conservatore chi prende meccanino mette terzino forse in realtà non è così proprio perché magari prendi un'interpretazione un po particolare del ruolo no volevo tornare velocemente su Vlaovic qualcuno chiedeva alberto ma nello scontro nella super sfida Cesco Vlaovic la trasera chi esce vincitore non della partita della sfida non della partita alla fin fine Vlaovic ci fa vincere la partita perché la ribalta lui quindi vince lui io sui due secondo me sono due grandi giocatori fra i due prenderei Cesco ma più per una questione di età di e anche di ingaggio cioè io faccio sempre una questione se guardiamo il giocatore basta in questo momento secondo me Vlaovic è ancora davanti a Cesco è ancora guardo la prospettiva e se guardo quanto prende di ingaggio uno quanto è costato l'altro si bisognerà anche vedere quanto prenderà di ingaggio Cesco ma non ne prende 12 o 10 di sicuro cioè se lo prendi secondo me dipende sempre la squadra che lo prende perché se arriva di nuovo difficile che arrivi City Paris Saint Germain non spende più il Real Madrid davanti non non è il suo giocatore quindi potrebbe prendere Barcellona al posto di Lewandowski ma nel primo gol ho rivisto Van Basten e quale però dei due del primo gol di Vlaovic o di Cesco? No di Cesco secondo me è chiarissimo no invece nei gol di Vlaovic chi avete rivisto? Prima un po' Higuain ti dirò quell'anticipo, quell'idea di... il secondo è una roba che mi ha stupito lo dico io il secondo è un gol alla Michele Padovano Padovano tirava fuori questi gol qua tirava fuori questi gol qua Padovano più rasoterra però però lui da lì media distanza quando tu pensi non tira più adesso non tira più perché stavano chiudendosi i difensori davanti cercando di riordinarsi eh non lo so eh qualcuno avevo... Andrea Padovano dice Casiraghi io sto con lui perché anche Casiraghi sul secondo sul secondo sul secondo eh Casiraghi vabbè quello che stoppa il pallone con l'Austria-Vienna sulla rimessa laterale tira quella legge incredibile ma quella è una follia andatevelo a vedere su YouTube ricordo un super gol contro il Milan Maglia nera Maglia nera Maglia nera ricordo anche un super gol contro Milan con palla con una conclusione volante molto bella eh vabbè vabbè leggo tanti nomi Treseghe eh forse il primo il primo il primo è più da Inzaghi eh che da Inzaghi esatto come movimento come movimento esatto eh intanto sul gol di Casiraghi non c'è nulla benissimo allora io vado in polemica perché se mi toccate Casiraghi io non è il mio idolo cioè se io devo fare un attacco della Juve storico probabilmente metto Casiraghi Bieri e Vialli tanto per dire quindi no non toccatemi Casiraghi che lo conosco benissimo è un giocatore straordinario che ho pianto quando se n'è andato via grande Pigi no li faceva li faceva sti gol lì li faceva grande Pia Gigi vedo che il motter ma lì è una questione un po' duri per noi Casiraghi lottava come un leone faceva dei gol a volte con Bruno con Bruno pazzesco poi i gol nei derby pesavano il doppio perché facevano il toro perdeva la testa tutte le volte che segnava Casiraghi quindi un casino incredibile benissimo benissimo allora torniamo a noi ragazzi onestamente Napoli Como oggi Inter Torino domani Juvento lasciamo un attimo il Milan fuori Milan scusate Inter Torino e Juventus Cagliari ok su queste tre Napoli in casa Juve in casa Inter in casa Como Torino Cagliari qualcuno lascia punti Stefano? No secondo me no o meglio una parte di me ha sempre paura che siamo poi noi a lasciarli ma spero in un abbrivio positivo però secondo me no turno interlocutorio turno che non ci porta a nulla non so questa è la mia sensazione Giacomo? Lo spero anch'io perché diciamo che il Napoli e la Juve hanno due squadre che arrivano in fiducia perché arrivano da addirittura il Como due vittorie quindi per la Juve ecco è importante vedere il ritorno sulla terra coi piedi per terra mercoledì eravamo tra le stellari tra le stelle si torna sulla terra con una squadra che ti magari si chiude un po' e ti costringe a inventare qualcosa sicuramente ci sarà consensato dal primo minuto in questo momento è l'uomo più adatto si allena con la squadra UEA a fare da priscato oggi si allena con la squadra UEA ecco a proposito del fatto che la prima riflessione ma non abbiamo cambi sugli esterni c'è Bangula che adesso non abbiamo più rivisto e UEA ovviamente da capire UEA con quale tipo di di minutaggio eccetera eccetera tu che dici Alberto di queste tre gare Torino come Cagliari io sono molto concentrato sulla Juve sono anche molto ottimista perché ho visto un Cagliari col Parma abbastanza largo diciamo non così chiuso non così messo bene come è strutturato in difesa come altre squadre qui guardo la mia squadra cioè non è questa la giornata decisiva vado avanti faccio non sono ancora lì che guardo gli altri perché secondo me sono molto molto ottimista ma tu Luca vedi un un consegno titolare o un un'arma in panchina perché abbiamo anche questo tema qua anche secondo me gioca subito non so sto rispondendo così anch'io distinto Panos che dici? Secondo me gioca subito secondo me gioca anche Duras Luiz ditemi la difesa i quattro di difesa di Juve Cagliari Giacomo centrali credo che Gatti e Calulu siano obbligatori Savona e potrebbe esserci di cambiasso a sinistra a meno che non ti rispolveri cabal di cui non abbiamo più traccia non saprei secondo me può essere questo io mi gioco Calulu a destra Gatti, Cabal e cambiasso sono con te Luca secondo me perché il messaggio è ti faccio vedere che anche senza Bremer io posso giocare anche con un altro centrale e tra l'altro la partita col Cagliari è una partita abbastanza abbordabile da questo punto di vista anche se c'è un piccolo in forma però gli può mettere Gatti su piccoli e su Luvumbu magari ci mette Cabal ricordiamo che ricordiamo che Danilo ha giocato titolare comunque no perché sembra che sia sparito Danilo ha giocato titolare a Marassi e quindi lascia se se pensiamo a uno che tra l'altro è anche uno che può fare cose diverse tutti dicono beh metterà Danilo io non so come mai mi sono svegliato stamattina e anche in maniera controintuitiva dico potrebbe riapparire Cabal da centrale questo è un'idea che mi sono fatto ma non è fondata ragazze su su notizie in questo momento è qualcuno dice e non sono più di uno che dicono rivedremo Rui invece a sinistra e quindi e quindi scusate e quindi Cambiaso a destra scusate non sta fuori Cambiaso non sta fuori due partite di fila di campionato e non ha giocato a Marassi secondo me se gioca Rui è perché gioca Cambiaso a destra no? L'hai visto in difficoltà il Diz Alberto? Tanto in difficoltà questa volta come fiato o ti aspettavi di più? No io mi aspetto questo dai Diz cioè secondo me oggi il Diz è questo giocatore qua è un giocatore che mi può fare quel gol splendido che ha fatto col PSV però a oggi non è ancora giocatore da a cui affidarmi eh per per vincere le partite e quindi mi aspetto anche un po' un turno di riposo è certo difficile trovare magari però e secondo me gli farebbe anche un po' bene perché sennò rimane lì che che ormai ha dato eh però è un po' ingolfato io lo farei riposare una volta ma non per punirlo proprio per ridargli un po' di fiducia e fargli capire che può rientrare nel meccanismo compagno di mille battaglie sarà un periodo difficile ma sono certo che dando il massimo come hai sempre fatto vincerai anche questa ci mancherai mi mancherai ma siamo qui ad aspettarti sei il più forte di tutti messaggio di gatti sui social per Gleason Bremer capitano capitano messaggio da capitano Gatti poi sei il più forte tratto benissimo fatto bene quanto rosicano quelli che hanno fatto vedere quel pallo lì di di Gatti su Ciavi Simons quanto rosicano quanto godiamo a leggere lì che eh guardate lo solito lì antisportivo e noi godiamo bravo Gatti beh cioè mi viene che Lini a proposito di antisportivo credo che fosse il più il più bombardato da dai tifosi avversari in qualunque partita avete il giocatore più antisportivo che esista poi quando hanno goduto una volta c'era Chiellini capitano che alzava l'europeo era lì bravo Gatti chiello antisportivo è anche è anche antipatico secondo la biografia di Zanetti ho letto da qualche parte dove dice che tu hai letto la biografia di Zanetti? Cristiano no l'ho letto da qualche parte lui lo sento solo per avere dei biglietti per chiedere per avendo lo stadio qua di fianco no ho letto da qualche parte che in una sua autobiografia biografia qualcosa lui dice che in Serie A ci sono soltanto due calciatori che non sopportava che trovava antipaticissimi e uno dei due era Chiellini ovviamente perché aveva quest'aria quest'aria di superiorità ti guardava dall'alto e probabilmente ti vinceva in faccia quindi ti dava fastidio non lo so sia quello il motivo sì devo dire che Zanetti vabbè mentre invece Chiellini era venuto fuori era venuto fuori un polverone quando Chiellini invece aveva citato come giocatore insomma con cui non condividere uno spogliatoio Mario Balotelli e venne fuori una polemica devastante perché sembrava che Chiellini aveva sentito fuori una follia vorrei far presente che Balotelli cioè voglio dire no dico non è che non ho letto mi ricordo che non ero la maschera dello stupore io quando l'ho lessi o altri cioè Balotelli c'è una lunga schiera di dichiarazioni di compagni ex compagni ex allenatori Balotelli era uno un po' davvero particolare che poteva da compagno d'avventura sinceramente anche essere insopportabile quindi è per questo che non lo prende la Juve Balotelli da svincolato no come vice Dusan ragazzi c'è qualcuno che direbbe sì a gettone Balotelli sicuro c'è qualcuno sicuro sicuro se c'era qualcuno che voleva De Pai c'è qualcuno che vuole Balotelli l'hai visto De Pai al Corinthians come è entrato bene so so che Alessandro ha vinto la partita col partita Flamengo Corinthians sta facendo dei numeri Alessandro 1 a 0 Alessandro ragazzi invece scusami Luca ci sono diversi sì per Balotelli ma sicuro sicuro e invece Sergio Ramos chi è che lo rivolrebbe cioè lo rivolrebbe lo vorrebbe qui mi tocchi sul vivo perché io ecco dopo Casiraghi c'è Sergio Ramos no no però è proprio un giocatore proprio di quelli non si possono dire figlio figli figli che è sempre meglio avere i quelli che odi quando sono dagli altri esatto odio ma poi alla fine cioè mi gasa un giocatore così quindi averlo sinceramente vado contro qualunque mio principio strano del solito di prendere i giocatori che sono finiti però Sergio Ramos a gettone specie in Europa fine dell'anno allora a gettone no a gettone voglio dire Balotelli a gettone come i giubox mettine una e poi vediamo come il concerto degli oasis uno poi vediamo i prossimi cosa succede se li fanno o no esatto quindi Sergio sì beh in Europa secondo me sarebbe uno che fa sentire molto la sua esperienza ricordiamolo è 37 presenze 5 reti la scorsa stagione tra l'altro protagonista di Real Madrid Siviglia con i tifosi del Real che gliene dicevano di ogni perché dicevano ma perché devi giocare così contro noi non lo so però è anche curioso che nessuno in Europa nessuno ne ha fatto una vera proposta questo fratello procuratore lo ammette candidamente se pensi che Umes comunque è arrivato alla Roma finito il mercato e non gioca tra l'altro e aveva giocato alla finale di Champions quindi secondo me è proprio un modo diverso di guardare al mercato che hanno le società in questo caso non lo so effettivamente poi con gli arbitri che abbiamo noi in Italia probabilmente Sergio Ramos entra sorride e lo cacciano probabilmente da noi però io con l'Inter vedere Sergio Ramos in casa però sarei curioso sì 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 ma lo vedreste da chioccia cioè stai lì chiuso quando mi servi o lo vedete titolare cioè giusto per capire entra in rosa gira con con tutti gli altri deve dire Tiago cioè secondo me deve dirlo Tiago Tiago dice sì ma bene ma secondo voi se io facessi sondaggio sino Sergio Ramos cosa vince sì 61 beh ma una ventina di partite te le può fare quest'anno è tra tutte quelle che ci sono cioè per tanti motivi io so già qual è l'odiosa domanda che che sarebbe dipende quanto vuole eh se vuole tre no se vuole 2,2 sì non lo so no io sto parlando proprio cioè sentite la vibe Sergio Ramos cioè perché la Juve si è fatta forse un po' l'acquolina anche e dire se devo buttare all'aria una stagione che posso fare da protagonista perché poi ho aspettato gennaio che non arrivava mai perché poi se ti va a storte le cose gennaio non arriva mai non lo so Giacomo sì faccio sondaggio eh se le se le fai le devi fare subito cioè un giocatore come Ramos non lo puoi prendere a gennaio magari ha fatto quattro mesi fermo perché prima che poi ti entra con un minimo di forma devono passare altri due mesi se è un'operazione da fare andrebbe fatta in tempi molto rapidi secondo me ti dico noi siamo in questo momento la Juve più scoperta davanti davanti questo momento è più scoperta davanti che dietro paradossalmente e con l'assenza di Nico González se ci pensi ancora di più ancora di più o almeno allora non abbiamo visto che manca il vice Vlaovic non abbiamo visto granché di Nico finora devo dire la verità però per il tipo di stabilità il giocatore che che ci poteva offrire conoscere la serie eccetera tu dici in questo momento anche Nico ci accorgeremo che è fuori un mese poi adesso c'è pausa nazionale quindi due settimane voleranno così intanto però ricordiamo che Panoz ha pronosticato 61 sì eh attenzione perché qua potremmo andare molto vicini come nel curling arrivare molto vicini piano piano al cos'è al boccione però è vero Luca che 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 poi come diceva Panoz è tutto nelle mani di Tiago cioè se Tiago decide 61 fermi tutti leggo senza no non ci credo tra l'altro devo dire che di questi 61 per cento di sì il 30 per cento è solo per comprare la maglia di Sergio Ramos Juve non per dire prega niente che gioca che non gioca prego Stefano no 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 se c'è se ci sono dei meccanismi se c'è un equilibrio se c'è un all'interno dello spogliatoio cioè anche queste cose probabilmente Tiago tiene in considerazione e magari anche uno che dice no io tengo duro fino a gennaio faccio esperimenti giocatori che ho mi bastano sono capaci di coprire più ruoli tutto per mantenere un po di 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 equilibrio e responsabilizzare di più anche quelli che abbiamo non lo so la morale è sempre quella decide Tiago tanto come decide decide bene basta però questo è il caso Danilo secondo me questo è un discorso giusto ma che puoi fare in difesa perché veramente davanti siamo forti sì sì in difesa Alberto di nuovo citato Danilo che ovviamente è il vero argomento centrale noi ci spendiamo ragazzi chiedetemi poi le ruote quando volete anche biglietti puoi fare qualcosa anche per i biglietti nel caso sono una tifoseria giusta quindi mi trovi la dirigenza giusta la dirigenza giusta esatto 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 comunque prendiamoci io questa maglia numero due di Sergio Ramos via così tanto è libero quindi invece io avevo una domanda che volevo fare Luca che poi sia se tutte le volte che ci sono io Luca se ne va vorrà dire qualcosa mi facevo delle domande invece su Turam se c'è uno se lo vedremo col Cagliari anche per far ripetere o due se se non l'abbiamo visto è perché fagioli meccenni garantiscono qualcosa o se non si è ancora pienamente ripreso o se c'è qualche cosa dietro sì Luca notizie la Juve era contraria all'intervento chirurgico per Milik che ha insistito per la pulitura del che dice no non sono a posto mi sento a posto ma no è infiammato devi fare così devi fare cosa no non sono a posto voglio che mi operi quello là che mi aveva operato sette anni fa a Villa Stewart avete notato l'intervento a Villa Stewart eccetera poi cioè però si poteva secondo la Juventus gestire magari ha ragione lui magari no l'ultima volta che un giocatore ha voluto fare il testa sua non è andata benissimo ma infatti ve lo dico ho colto vagamente poi il calcio è bello perché ci regala delle sliding doors che stiamo anche raccontando ma che ne una cioè però per la Juve pulisci di questo ginocchio e a gennaio e a gennaio trovati anche il questo è un buone notizia in che senso io preferivo bene preferisco che si vada su un giocatore sano e di prospettiva ma quindi a gennaio si quindi si interverrebbe in difesa e in avanti c'è l'idea sarebbe quella un doppio intervento davanti secondo me la necessità è data non solo dai numeri ma anche diciamo un po da 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 questa disponibilità molto molto a fase alterna di nico gonzalez io credo sia già il secondo infortunio quest'anno sbaglio insomma è un giocatore che ce l'hai ma non non puoi dire che sicuramente ce l'avrai quando rientra per tutta la stagione perché a livello muscolare mi sembra un po cagionevole io voglio capirla questa cosa qui ragazzi però io voglio capirla cioè ho veramente voglia non non è una roba che però ho voglia di capire torano voglia perché quando a me anche amarasse quando entrato tutti hanno parlato di douglas perché è riuscito a fare 4 5 cosa fila serie però mi ha impressionato torano c'è ogni quasi tutte le volte credo solo l'ingresso con napoli noi a me a me ruba l'occhio come 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 si muove giocatore voglio capire voglio capire come eppure non l'avrei non l'avrei mai detto eh di 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 ritrovarlo al momento ai margini per dire anche il cambio che fa all'ipsia se mi avessero detto scrivi sta entrando un altro giocatore un centrocampista io oltre a oltre a per in ovviamente nella lista aveva avuto locatelli turam e douglas luiz io avrei detto fa entrare turam per il tipo di partita anche se era un po le squadre saranno un filo allungate c'era questo spazio molto spazio da una parte lui è uno che quando corre ragazzi e lo muove bene questo pallone per essere uno 90 muove anche bene queste gambe questo corpo mia a me ha impressionato molto bene finora e sono contento e poi se non gioca non è che mi dispero nel senso che se non gioca e fagioli gioca sempre così e me che gioca sempre così mi va benissimo e non è questo il tema però io ve lo dico io ho grande interesse perché lo voglio veramente rivedere molto presto alberto sì io sono d'accordo su quello che ha scritto la diga no perché fagioli ha fatto una partita sontuosa non ha sbagliato un passaggio secondo me però la juve è mancata un po la diga dietro perché né mckenny né fagioli sono giocatori da interdizione e poi non hai più bremer non hai più bremer mai e ti dico nel secondo tempo quando noi segniamo il gol del pareggio poi prendiamo due contropiedi dove gatti e calullo si trovano da soli contro tre perché poi alla fine c'è anche ciavissimo sa l'altra parte ma lì non è tanto colpa loro che poi sono andati un po così come non è neanche colpa di fagioli eh che nel senso non è il suo giocatore diverso assolutamente però un giocatore più come magari locatelli o turam in fra quei due lì e questo così spiego anche che qualcuno mi ha ragazzi ma chi mi sta giocando titolare nel bayern non è un giocatore fuori progetto e quindi qui turam può esserci però poi abbiamo vinto quindi le chiacchiere stanno a zero quindi bravissimo e va bene così vediamo in altre situazioni secondo me mi piacerebbe fare una domanda a tiago che intanto però non mi risponde ecco io farei domani una domanda a tiago che ci spiegasse il perché gioca un determinato centrocampista che non mi dica quale ma quali sono nella sua testa visto che lui dice sono tutti bravi uguali perché gioca uno non mi spieghi chi è quello lì ma non sono tutti bravi lui dice quello sono tutti bravi e livello forti uguali forti uguali diverso livello forti uguali va bene non avevo colto questo questa diversità diversa molto però alla fine poi ne decide undici che stanno in campo essenzialmente tre centrocampisti di cui uno è sempre con minors capire quale sia la scelta il perché arrivi questa scelta sarebbe bello da saperlo tutto qua senza dire uno è più forte dell'altro no volotamp nuovo abbonato mio oggi non avrei potuto vivere senza di te Mello Juve ha rinnovato vogliamo da Panoz e Luca i nomi di chi può sostituire Milik a gennaio Mello Juve ha rinnovato venti mesi Panoz ti fa questa domanda giocati un nome non tuo tu sei giuntoli quindi ragioni come giuntoli non come Panoz sei Tiago ragioni come Tiago sai che non hai un budget mercato dedicato all'attaccante eccetera chi potresti a chi potresti pensare a gennaio e quindi non per forza non lo svincolare ecco non è non è il mercato svincolare un nome David extra comunità allora il nome il nome oggi non ce l'ho perché dovrei andare a vedere io andrei io ti dico il profilo mestiere ma non posso comprare cioè io te ne posso sparare di nomi giovani ma che non vengono e secondo me non quindi comunque pensi a un giovane no io penso penso a un prestito di sei mesi il giocatore che non gioca che fatica un po che che ha già una buona esperienza internazionale secondo me questo profilo che io andrei a prendere e me lo prendo in prestito per sei mesi punto fa la riserva di un nove un nove per sì sì non so ciupo motting adesso ti sparo un nome per il primo che mi è venuto in mente come anche oggi se vuoi sì va bene però hai capito cosa voglio dire c'è un giocatore che la riserva che non ha trovato giocatore tipo Davis dell'Udinese ok non è lui però è un giocatore che non trova spazio perché è chiuso perché c'è uno davanti più forte di lui che segna ma può avere non è Davis eh Oilund bravissimo ecco Oilund potrebbe essere quel giocatore no Jovic è troppo scasso cioè deve essere anche un minimo allora allora da riprendere Brunori al Palermo che era quella next gen qualche anno fa meglio di Jovic dimensione internazionale ok però dato se devi se devi rischiare ma nomi non è facile Davis non è male Davis è solo che è sempre rotto però è un bel giocatore potente ti lascio lì no andrei fuori andrei fuori però dovrei vedere i profili cioè in questo momento non so quali siano le squadre che lasciano fuori un attaccante che gioca poco quindi quello che è ma tirare su qualcuno dalla next gen cioè è che non c'è niente c'è come anche dietro c'è non sono tutti rotti però non esiste proprio questo piano B C di con del tempo a disposizione non ho detto che la Juve non ha un euro sto dicendo che la Juve al momento ripeto salvo anche che possa esserci un mercato cessioni a gennaio non ha un budget dedicato da quello che risulta a me la Juve non ha un budget dedicato in questo momento pensato e dedicato per il centravanti di backup ma Luca ma quindi vuol dire che il centravanti di backup in estate non si è fatto perché ci si fidava di quello che avevamo o perché per vari motivi non si è non è stato voluto non è stato è stata una mossa voluta cioè io sto a quello che anche poi è il lavoro che abbiamo fatto tutti i giorni ditemi quanti nomi di nove sono stati realmente associati alla Juventus anche che io, Romeo, Giovanni scegliete voi chi un giorno è arrivato e ho detto attenzione a no, non è mai successo abbiamo provato a fare alcune ipotesi su quel momento i giocatori che avrebbero potuto anche giocare il nove, la Juve sul mercato dei nove non c'è stata beh Morata Morata si è proposto lui tra maggio e inizio giugno e Tiago ha detto Morata non lo voglio non è giocatore per noi quando viene fuori ecco l'unico nome che è venuto fuori è Abraham a un certo punto ma era la Roma che voleva liberarsi di Abraham come dimostrato dal tipo di operazione che ha fatto col Milan perché gliela ha prestato e quando trattavano Chiesa Chiesa ce l'hanno offerto ed era stato due giorni con queste ipotesi ma il fatto che la Juve non abbia pensato neanche a Abraham è dimostrato che venti giorni dopo quando le due società fanno una trattativa da 30 milioni per Sule la Juve non glielo chiede Abraham dentro e lì avresti trovato terreno fertile Sule spingeva che era il discorso che ve lo ricordavate ballavano quei due, tre milioni quasi per principio e lì la risolveva loro avevano ancora l'urgenza di dare Abraham l'avete visto e la Juve no la Juve ha scelto così c'è da dire che in quel momento la Juve aveva ancora tanto da fare Conminers non è arrivato Nico Gonzalez non è arrivato Concesano non è arrivato e quindi c'era anche un discorso di priorità e una priorità non è non sto dicendo che la Juve non vuole un 9 sto dicendo che nelle priorità era in fondo in fondo tutto il resto l'abbiamo fatto bene, male poi lo giudicheremo tutto il resto l'abbiamo fatto centrocampo contro il Cagliari chi vi aspettate? Alberto Douglas ritorno di Locatelli e Conminers Con Douglas un po' più un po' più free come McKennie quello che se fa 4-1 4-1 Douglas si alza fa il McKennie diciamo sì non avremmo mai pensato eh il 30 giugno di dire Douglas fa il McKennie sono quelle frasi strane che dici ma io non dico perché dico questa cosa avevo pensato oh se per miracolo McKennie rimane McKennie può aspirare a fare il Douglas invece è bello una domanda su Douglas no prima mi faccio dire il centrocampo da Giacomo il centrocampo domenica ore 12.30 da Stefano e poi la domanda su Douglas che tutti vorrebbero a cui tutti vorrebbero rispondere faccio velocissimo faccio velocissimo perché è lo stesso di Panos secondo me per la terza gara consecutiva difficilmente ripropone McKennie e Fagioli insieme è una gara che consente anche qualcosina di sperimentare senza troppi rischi per me come sceglie Tiago sceglierà sicuramente bene può fare quello che vuole però a me piacerebbe vedere Turan è bellissima questa cosa che ci dici tiago sì no però io vorrei vedere Turan da qualche parte lo vorrei vedere perché come dicevi tu Luca io sono lì che anche a me che Efrem mi stuzzica tantissimo quindi lo vorrei vedere e mi chiedo anche Copp forse non dovrebbe riposare perché anche l'altra sera ma intanto va in nazionale lui a differenza di Vlaovic c'è la convocazione torna lui non era stato convocato nel round precedente a settembre invece è convocato il nazionale e torna a vestire la maglia dell'Olanda la domanda di Panos su Douglas Lewis quando è stato deciso di prenderlo e Tiago sicuramente era già in orbita Juve e se immaginiamo questa e tu sei bravissimo a immaginare questa questa cena questo aperitivo con Tiago da una parte giunto lì dall'altra come è andato cioè è giunto e gli ha detto guarda caspita cioè ho trovato questo fantastico diceva vabbè se vuoi prendermelo l'importante è che mi prendi Copminers poi a me se vuoi prendermelo te lo tengo buono sì eh oppure gli ha detto Tiago caspita no ma veramente c'è la possibilità di prenderlo come è andato questo incontro giocatore forte livello alto gli occhi sono quelli lì però lo dice di tutti ma anche aggiunto gliel'ha detto ma noi sappiamo una cosa che sapevamo in quelle ore allora innanzitutto che la Juve fa di tutto per fare l'operazione perché questo credo che se facciamo mente locale c'è McKennie e c'è Ealing Ealing è il giocatore è l'unico giocatore dopo a parte sulle ma te l'avrebbero valutato 20 milioni secondo loro parlo dell'Atalanta il giocatore per cui l'Atalanta dice guarda io posso pensare a quella che brutalmente viene rifiuta la contropartita tecnica per Copminers Ealing Junior questo era il nome dell'Atalanta la Juve l'Atalanta e Tiago dice però Ealing è il primo di là primo Ealing vuole andare in Inghilterra primo vuole andare là secondo di là ci dicono Ealing oltre a McKennie Ealing Ealing cosa facciamo e a me risulta che sia giunto lì sia Tiago e dico no no non perdiamo Douglas lascia Ealing lì e per Copminers sarà tanto là un modo per trovare un'altra quadra e sappiamo anche che cosa che poi c'è tutto tutte le varie ipotesi per trovare una soluzione dopo il no di McKennie clamoroso che ha fatto infuriare la Juve eccetera eccetera tra l'altro McKennie sarebbe andato a guadagnare il 40% in più 50% in più perché poi è rimasto le stesse condizioni da noi ma soprattutto ci risulta non ho la prova provata ma in quei giorni me lo ricordo lo ricordo ci risulta che Tiago era si è messo in contatto con Douglas Lewis e in qualche modo è stato quasi tutte le trattative fatte dalla Juve Tiago c'è un momento in cui interviene in persona l'ha detto Calulu l'avete sentito? Calulu lo dice lo dice subito dice è stato importante per me parlare con l'allenatore sapete già è stato quasi tutte con Seisau anche Douglas Lewis quindi io come immagino con quell'aperitivo livello alto prego